Grazie a tutti Siete nelle mani di Morgana e Sebastiano, siete nelle mani di Cartesia, hai capito che bella bambina? Siamo nel cuore di Cartesia Sì, specialmente, i bambini danno tanto, però bisogna dargli le regole Mazza e Panella, come si dice nel programma, mazza e Panella fanno i figli belle Che bella, questa mi piace, allora benvenuti a Los Angeles Grazie a tutti